Ciao ragazze, allora volevo condividere la mia esperienza che riguarda come sentire il proprio viso e il proprio corpo. Stamattina mi sono svegliata, è ancora ora perché devo fare ancora il massaggio, sento tantissima tensione nei muscoli masticatori e il collo da questo lato perché io dormo purtroppo sul fianco destro. Quindi il viso lo sento tutto un po' come se tirassi da qui, perché la testa è anche inclinata diversamente, perché qui c'è tanta tensione. Quando io so come mi sveglio la mattina, quando leggero i gonfiori o se sento o non sento le tensioni da qualche parte, questo oggi mi fa notare che io così non mi sveglio mai. Cosa fare? Molti di noi vivono costantemente purtroppo in questo stato di tensione al massimo e neanche sanno come vivere senza queste tensioni. Io ora la mia attenzione l'ho evidenziata subito perché mi sento tutta rigida, più soprattutto dal lato destro. E se voi poggiate le mani qui vicino proprio alle orecchie così, stringete i vostri denti, stringerete i vostri muscoli masticatori che sono fortissimi, influenzano tutto il nostro viso quando c'è la tensione, influenzano mal di testa, i denti, bruxismo, se i denti si consumano, la simmetria delle mandibole e tante altre cose. Il naso labiale, il gonfiore, occhi, il gonfiore generale, il doppio mento, qualsiasi altra cosa perché bloccano lo scorrimento olinfatico. Stamattina infatti mi sono svegliata più gonfia e molto rigidità qui. Cosa vado a fare? Vado a rilassare i miei muscoli e un po' il collo per far fluire la linfa finalmente giù perché la linfa scopre dal centro lateralmente qui. Quindi rilassando i muscoli masticatori, sbloccando il collo, io sgonfierò il viso. Il gonfiore si vede, il video non rende forse tanto bene, ma io ho una foto scattata prima, vedremo il risultato. Allora, mi servirà la coppetta più grande e vado a fare ciò che devo fare. Vado a lavorare sui muscoli masticatori, facendo degli esercizi, dei movimenti con il muscolo. Ecco la coppetta. Il muscolo masticatore è fortissimo, il muscolo più forte del nostro corpo. E io ora sto facendo il massaggio ginnastica. La mia metodica è molto diversa dal massaggio classico. Qui bisogna dosare il vacuum. Guardate come è salito il viso. Ho lavorato solo i muscoli masticatori. Guardate che lifting che è venuto qui. Quindi chi ha la guoncetta di pitbull sale, chi ha il naso labiale se avviene lifting. E non ho fatto il lifting, ho lavorato soltanto i masticatori. Lo vedete anche voi nel video. Qua tutti i tessuti vanno molto più giù. Ora continuiamo. Faremo il linfotrinagio. Ecco il risultato. Qui il viso è pesante e va giù. Anche l'angolo è più basso. Qui ho lavorato i masticatori. Sento una leggerizza pazzesca. Sento proprio aaaah. Lo vuole di aprire la bocca perché sento la possibilità di farlo. Mi sento più libera anche a livello proprio emozionale. E si vede che qui c'è un bel lifting e lo zigomo più definito. E concludo con due passaggi qui.